Anche il Quidditch parla veronese, lo sport reso famoso dai libri di Harry Potter ha trovato casa anche a Verona. L'Hydras Quidditch Cus Verona, una delle poche squadre attive in Veneto, è nata 4 anni fa e da 2 è diventata una sezione del Cus Verona. Il Quidditch è uno sport misto, outdoor, in cui due squadre si affrontano, formate da 6 giocatori più uno. I giocatori sono i cacciatori che devono cercare di fare gol dentro i cerchi degli avversari con una palla da pallavolo chiamata pluffa. Un portiere che cerca di difendere gli anelli e di aiutare i propri cacciatori a fare le azioni di attacco. E poi due battitori muniti di palloni da dodgeball che devono cercare di colpire gli avversari. Quando una persona viene colpita da un bolide, sono chiamati così questi palloni, mano e battitori, deve ritornare ai propri cerchi, toccarne uno e poi rientrare in gioco. In più c'è il cercatore, il ruolo che faceva Harry Potter che doveva prendere il famoso boccino d'oro dentro i film. Il boccino, non essendoci la magia in questo sport, è una persona fuori dalle due squadre, tipicamente vestito di giallo e con un codino dietro la schiena da dover acchiappare. Il tutto si svolge sopra dei bastoni omologati da tenere costantemente fra la gambe e che vengono chiamati scupe. L'associazione italiana Quidditch, nata nel 2011, conta una ventina di squadre attive per diverse regioni o città. Al momento i campioni nazionali sono i Virtute Roma, una delle due squadre della capitale. Tra l'altro lo scorso weekend si è concluso il campionato europeo delle nazionali in Germania, dove l'Italia ha ottenuto la quinta posizione, ranking migliore della sua storia.